Cambiamenti climatici, obiettivo 11. I cambiamenti climatici hanno causato lo scioglimento dei ghiacciai, che causa l'estinzione di molte specie che vivono in questi luoghi. Il ghiacciai. Lo scioglimento dei ghiacciai è causato dei cambiamenti climatici. Ezzo causa l'innalzamento degli oceani, con la conseguente sparizione di molte città e zone costiere. Gli animali in rischio di estinzione. A causa dello scioglimento dei ghiacciai, molte di queste specie si estingueranno. I pinguini. Molte delle specie di pinguini hanno un numero basso di essi, quindi sono più a rischio di estinzione. Curiosità sui pinguini. Nuotano a una velocità di circa 40 km orari. Quando si muovono, camminano... Gli orsi polari. Per l'orso polare, la cui sopravvivenza dipende dalla presenza di ghiaccio marino, sarebbe una condanna senza appello. Curiosità orsi polari. Non sono carnivori più grandi del pianeta. Non sono bianchi e non bevono l'acqua. Quali motivi causano il cambiamento climatico? Ci sono vari motivi che causano il cambiamento climatico, tra cui... Le industrie. Le emissioni di anidride carbonica, che poi escono dalle industrie, hanno creato il buco nell'ozono, che permette al sole di riscaldare ancora di più la terra. Il sole riscaldano la terra, ma con gli anni iniziano a scaldare ancora di più, fino a seccarla, creando la siccità. I combustibili fossili sono sostanze che contengono carbonio e bruciando liberano calore. Le energie naturali. La natura ha un sistema energetico pulito. Utilizza acqua, vento, calore e luce. L'energia solare è la più nota tra le forme di energia pulita. La deforestazione. La riduzione delle aree verdi naturali, causata da lo sfruttamento delle foreste, è uno dei problemi ambientali del mondo. Come possiamo risolvere questo problema? 1. Non bruciare i combustibili. 2. Non dovremo utilizzare per le industrie che rilasciano gas, ma dovremo utilizzare le risorse naturali. 3. Non sprecare l'acqua, usalo solo per lavarti. 4. Non tagliare gli alberi, se è uno per farci vivere. 5. Non usare solo auto o mezzi di trasporto, ma usa soprattutto bici, monopattini, roller. 6. Ricicla la plastica e la carta. 7. Consume meno carne, basta uccidere gli animali. 8. Ridurre i propri rifiuti. 9. Installa un impianto a energia rinnovabile. 10. Far sapere a tutti del cambiamento climatico. da Emily, Elisa, Sara.